I carabinieri della stazione di Ragusa-Ibla hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti di due fratelli originari di Solarino, resisi protagonisti dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'autorità giudiziaria ha accolto la richiesta di misura avanzata dagli operanti, che a conclusione di un'articolata e delicata attività d'indagine avevano deferito a piede libero i due uomini per reiterate condotte di maltrattamento nei confronti della madre. Dalla ricostruzione dei militari dell'arma, infatti, era emerso come i due fratelli avessero per anni minacciato e maltrattato fisicamente la madre, 68enne, anche la di Solarino, pretendendo continuamente somme di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti, da cui la condotta estorsiva. A seguito degli ultimi episodi di violenza, la donna era stata costretta a trasferirsi presso l'abitazione della sorella Aibla, dove poi ha presentato una formale denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri.